Accordo trovato con il Verona. La Lazio si prepara ad accogliere Tijan e Noslin nella capitale. Era un obiettivo già da prima che sulla panchina bianco-celeste sbarcasse Marco Baroni. Come vi avevamo anticipato, l'incontro tra Lotito e Setti si è rivelato risolutivo. Decisiva la volontà di Setti di venire incontro a Lotito, concedendo uno sconto rispetto alle richieste iniziali, pur di mettere a bilancio una plusvalenza entro il 30 giugno. Il secondo acquisto estivo ora è davvero a un passo. La formula definitiva è di 15 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Dopo Chaunà ecco Noslin, comincia a prendere forma alla nuova Lazio di Baroni. Ma non solo i colpi in entrata. Castellanos è finito da settimane nel mirino del Ghirona, che vorrebbe riportarlo in Catalogna. Gli spagnoli insistono e chiedono un incontro alla società bianco-celeste che considera incedibile l'argentino e che ha già rifiutato una proposta da 15 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe coprire l'intero investimento per Noslin, come già accaduto con Chaunà, finanziato dall'uscita di Luis Alberto. E permetterebbe al DS Fabiani di portare a formello Boulaye di A. Per l'attaccante della Salernitana, bloccato da tempo, c'è un accordo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. In attesa di eventuali rilanci, la Lazio fa muro per Castellanos.